Rifugi aperti del Mediterraneo, in una parola RAM, progetto di ricerca sostenuto dal Club Alpino Italiano Abruzzo, teso alla valorizzazione della funzione del rifugio montano e degli stazi dismessi della pastorizia, luoghi da trasformare ad uso turistico e da cui partire per escursioni alla scoperta dei paesaggi, della flora e della fauna e anche delle testimonianze dell'uomo. La partecipazione è aperta ai soci e ai non soci CAI, le quote rispettivamente 10 e 20 euro. Quella di quest'anno, dopo un anno di pausa, è l'ottava edizione. Sentiamo l'idiatore, Marcello Borrone. Marcello Borrone, cosa accadrà domenica prossima? Accadrà una cosa molto bella nel comune di Villa Vallelonga, questa escursione culturale, diciamo e ora spiegherò anche perché, al rifugio Coppo dell'Orso, 800 metri di dislivello a quasi 2.000 metri. C'è anche la collaborazione con lo Slow Food, quindi non soltanto bellezze naturali ma anche bellezze per la gola. Beh certo, è partner Slow Food Abruzzo Molise, è partner dalla prima ora, questa è l'ottava edizione e quindi abbiamo sempre inteso il rifugio come un presidio culturale, non soltanto un luogo dell'accoglienza concreta perché salva anche vite umane, ma anche come presidio culturale, cioè capace di poter valorizzare le identità territoriali, tra cui anche il cibo. Per partecipare bisogna essere allenati? Beh certo, sono 800 metri di dislivello, insomma non è proprio, per coloro i quali non hanno mai indossato un paio di scarpe da trekking, questo certamente, però l'organizzazione del CAI, del club alpino, in particolare quello del CAI Abruzzo e della sezione Valle Longhe di Coppo dell'Orso consentirà anche ai meno allenati di arrivare sopra, diminuiremo il passo, godremo di più del paesaggio ma tutti quanti certamente arriveranno. Ci sono ancora posti disponibili o comunque chi volesse aderire cosa può fare? Chi è interessato può individuare il numero riportato nella locandina del presidente della sezione di Valle Longhe, Marina Buschi.